Giocatore americano e allora meno uno per la Virtus, ancora una grande giocata, firmata da Jordan Taylor. 12 secondi a disposizione per l'attacco di Siena che va dentro, ancora una volta, circolazione perimetrale per la squadra di Banchi. Tripla rifiutata da Bobby Brown, poi arriva la stoppata di Laval su Sanichize. Con l'ultimo tocco proprio del giocatore georgiano, andiamo a rivedere il grande assist di Bobby Brown. E Laval è anche questo. Probabilmente ci può essere dopo questa stoppata, forse un contatto di order, difficile dire.